Lo spettacolo del vestibolo superiore della reggia di Caserta, lo vedete in queste immagini. Accanto a me c'è Matteo Montani e da oggi quest'opera, che vedete alle nostre spalle, sarà esposta qui, proprio nel vestibolo della reggia di Caserta. Matteo, ce la racconti quest'opera? Quest'opera è un'opera che avevo pensato, nasce da un desiderio fortissimo e trova incredibilmente qua la sua realizzazione. Io ho sempre immaginato e mi sono sempre sentito in questa condizione di artista che si stupisce della meraviglia e della bellezza. C'era quest'idea di questo personaggio che guardando in alto aspettava qualcosa. Nella fattice in questo caso sta aspettando l'arrivo di un elemento che può cambiarlo completamente da un momento all'altro, che è l'elemento dell'acqua, che è un elemento ovviamente simbolico. Io qui uso l'acqua fisicamente per andare a simboleggiare invece una forza che viene dall'alto, che potremmo identificare con l'ispirazione dell'artista, che potremmo identificare con una forza soprannaturale, una forza spirituale. Ci interessa tanto di che forza stiamo parlando, quanto la relazione tra la condizione umana di essere qui sotto e poi l'aprirsi di un'altra condizione più grande di noi. Intanto noi abbiamo sicuramente lanciato questa curiosità e quindi chi ci ascolta potrà venire a vedere quest'opera fino a quando? Fino al 15 dicembre sicuramente, ma potrebbe anche essere prorogata, adesso stiamo aspettando una risposta. Ecco, intanto diciamo anche che questo è stato possibile grazie naturalmente alla direzione della Reggio di Caserta e grazie alla Galleria d'Arte Contemporanea di Nicola Pedana, dove ci sarà un'altra iniziativa. Dove il 19 novembre avremo la mostra personale, dove succederà anche lì qualcosa di speciale, perché appunto abbiamo detto che questa scultura è una scultura quasi performativa, dove si incontra anche la scultura, la pittura, la performance, perché nasconde un meccanismo idraulico e tre volte al giorno questa scultura viene bagnata e permette al colore che è nascosto sotto di venire in superficie. Anche in una galleria succederanno delle cose diciamo simili. Ma non diciamo di più, grazie naturalmente a Matteo Montali. Grazie a te.